70 anni Oh, ciccio! Vabbè, come stiamo? Stai, stai giù Stai, stai giù Questa è Nokia Noi Questo è se t'anno vista, noi Lì, la vai a parlare con il zio Oh, io, io Cando, mostro Ma, sull'età, amico, mi chiede a quella Questo su YouTube, mi mette Prendete no qua l'olio da l'ariccia tu non vieni ma come l'olio no li stagga stagga la musica stagga Sì, per carità, così vado in depressione.